Forse è meglio di no. Perché? Perché mi odiano. Nessuno ti odia, Silvia. Sara, finisce sempre che mi odiano tutti. Ci sono abituata. Silvia. Guarda che ci manchi. Smettere, dammi questo telefono di tartassare alla gente di messaggi. Siamo le persone che devono venire da te, non tutta loro, hai capito? No, non l'abbiamo usata. Lui mi ha detto che non lo usa mai. Siete sentiti? No, però penso che si sia presa a male perché mi sono baccata Martucci. Silvia, tu pensi veramente che tu abbia ci sei rimasto male per Martucci? Sì. È la patata dei trofei dei tuoi ucci. Ho capito. Vieni. Ma io me la sento. Solo che non voglio che mi faccia male. Dove come te ti vieni tu? Sì. Ok, sì. Ascolta, io non so minimamente di cosa tu stia parlando. E poi soprattutto, che ci faccio il dito dietro cessi dei maschi? Cosa stai, Silvia? Abbastanza bene, anche se sono stata chiusa in classe del giorno per la vergogna. Dai, Silvia. E poi ho corso il futuro. E poi. Mi sono ormai. Non mi sono ormai. La storia. Mi sono ormai. Eh, sì. Io mi sono ormai. La storia. La storia. E poi, lo stai? Ma sei matta. Guarda, di senso di te questo gruppo non esisterebbe Sì, io mi pensi che a noi ci piace organizzare le serate Tenere i contatti, dare da mangiare Fare quelli belli giocati a nana E abbiamo bisogno di qualcuno che lo faccia a posto nostro, capito? Sì, sono lì Sì, sono lì